bentornati ha detto fatto io sono valentina e lui è michele allora michele oggi proviamo a realizzare un portamatite da scrivania con le bottiglie di detersivo o di bagno schiuma quelle che avete a casa insomma proviamo si unico passaggio è creare l'apertura per inserire le nostre matite ecco finito adesso inseriamo michele le matite all'interno del nostro portapenne perfetto così potete mettere all'interno quello che volete penne matite qualsiasi cosa provateci è semplicissimo vi aspettiamo alla prossima puntata di letto fatto ciao